bella frate sempre sempre a castel de fels due biscottini dos biscottino su un caffè sono le 10 e 30 sono svegliato tardi alle nove e mezza il freddo colpa del freddo la mattina fa freddito ora al 99 per cento vado verso il sud quindi se il telefono mi arriva venerdì io sabato no venerdì stesso parto ho pensato ho pensato che in due mesi no grida ho pensato oggi è luna piena mercoledì 24 la notte ho fatto un sogno bruttissimo come se una persona o più mani insieme non so se era una persona con tante mani comunque erano mani che mi tenevano sai come se mi stavano no spingendo che mi tenevano fermo mi è messa svegliato poi una certa per fortuna ho capito che era un solo un sogno allora questa luna piena ma pure quella di prima ha portato un sacco di pensieri negativi sarà il freddo sarà che cambio stagione non lo so un sacco di pensieri negativi un sacco di pensieri negativi ti indeboliscono lo sai provano vedi il pensiero negativo prova indebolirti prova a deprimersi ma stamattina mi sono detto hold hold your ground mantiene la tua posizione abbi pazienza che passano e so la causa vedere la luna piena poi arrivi mentre c'è un momento che volevo piange stavo là così senza motivo è sta luna meme ma dopo vado a armare a far nuotare singhina l'acqua non è proprio stupenda qua ok non è cioè perché sti giorni c'erano un po di onde però gliela faccio a farla nuotare lei sta sta molto meglio solo che non cammina come prima cioè sembra che fa difficoltà come se la schiena fosse non so più dura cosa sta riprende però veramente lenta la cosa veramente lenta costretto sono costretto a andare mare perché non ho niente da fare destino crudele vuole che dovrò venire qua in spiaggia e a passare il tempo in attesa sempre del telefono che non non mi rispondono e non credo venerdì mi arriva mi sento un po un coglione che nonostante mi hanno fatto aspettare io ho pure dato 80 euro la colpa mia non è colpa loro it's it's totally my fault singhina fai la brava fai la brava fai la bravini non correre stop basta esce la sabbia perché questa non c'ha la punta è un tubo in pratica che vitaccia singh che vitaccia costretti ad andare al mare ad aspettare armare vitassa una vitassa non se la passo più